Buongiorno, con quest'aria sommessa da Radio Capital vi accolgo oggi e questa puntata sarà davvero un ritorno al video diario cioè messaggi che io oggi 6 gennaio 2021 lascio al Dario del Futuro che se mai rivedrà questi video dirà Ah, la prima settimana del 2021 era in fissa con una canzone specifica avevi scoperto questo dato, questa roba La canzone con cui sono in fissa è una canzone nuova, nuovissima, appena uscita ed è The Boxer, cioè il pugile, di Simon & Garfunkel 1970, dall'album Bridge Over Trouble Water quello con il Condor Pasa, per intenderci, uno dei più famosi che hanno fatto La canzone è stata scritta nel 1968 da Paul Simon ed è una ballata folk, molto semplice nella struttura Partiamo da perché sono in fissa con questa canzone adesso che sono passati 100 anni ormai Allora, il motivo è che ho fatto un video qualche tempo fa su i dischi più importanti, più belli che ho nella collezione e tra quelli c'era quello di Tracy Chapman La prima canzone del disco di Tracy è Talking About Revolution Allora, il giorno stesso vado su Spotify e vado alla radio di Talking About Revolution La seconda canzone che parte è una canzone che avevo già sentito prima ma non avevo mai ascoltato ed era appunto The Boxer Ma c'è io l'ho ascoltata e mi è piaciuta senza sapere che canzone fosse, ok? Però arrivato alla fine, ovviamente avevo capito chi la cantava ed avevo anche capito qual era il titolo della canzone Dopodiché allora sono andato un po' a studiarmi la storia di com'è nata e di com'è il testo e del perché ed è forse la cosa che più mi ha colpito cioè forse il motivo per cui continuo a riascoltarla è che la versione live cioè quella che c'è su Concert in the Central Park o live 1969 ha una strofa in più della versione in studio quindi, quindi consiglio per oggi, per tutti e per il Dario del futuro che si sarà dimenticato di questa canzone che vi, a giuro, ho ascoltato almeno cento volte nell'ultima settimana Allora, riascoltate prima la versione in studio facendo molta attenzione ai fiati perché secondo me sono fighissime è un arrangiamento della Madonna Dopodiché ascoltare la versione Central Park che c'è tranquillamente su YouTube al momento o nell'album se ce l'avete e lì fare invece attenzione all'attacco di Art Garfunkel all'inizio Niente, queste cose qua Dopodiché che cosa mi piace di questa canzone? cioè perché sono entrato in fissa a parte la storia lì della strofa in più ed è ovviamente un po' il modo in cui cantano Simon & Garfunkel questo ovviamente ma come tutte le loro canzoni c'è l'armonia delle voci il fatto che nel live in Central Park c'è Steve Gadd alla batteria mentre in studio c'era Al Blaine credo in Bridge of Travel Water che è morto due anni fa scopro adesso quindi Rip insieme ad Alexi Laio che invece è morto l'altro ieri così è sempre per il Dario del Futuro ricordati di queste cose niente io finisco così quindi questo è il consiglio musicale di oggi ma finisco leggendovi il testo la traduzione del testo di The Boxer con alla fine la come si chiama con alla fine la strofa aggiuntiva allora The Boxer sono solo un povero ragazzo anche se la mia storia viene raramente raccontata ho sprecato la mia resistenza per una tasca piena di borbottii mumbles in inglese così sono le promesse tutte bugie e scherzi e ancora un uomo sente quel che vuol sentire e ignora tutto il resto quando lasciai la mia casa e la mia famiglia non ero che un ragazzo in compagnia di estranei nella quiete di una stazione correndo spaventato profilo basso ricercando i quartieri più poveri in cui finiscono le persone sconvolte cercando posti che solo loro potrebbero conoscere la storia è la storia autobiografica di Paul Simon che ha scritto la canzone che parte giovane per New York e sostanzialmente non trova lavoro e questa adesso c'è una questa strofa nella quale adesso ascoltate perché ascoltate in particolare nel concert in the central park cosa succede nella in questa strofa qui cioè cosa fa il pubblico in questa strofa comunque chiedendo solo paghe da operaio sono arrivato cercando un lavoro ma non ho ricevuto alcuna offerta solo un vieni qua dalle puttane della settima avenue ed è qui che la folla fa qualcosa nel concerto lo ammetto ci sono stati momenti in cui ero così solo che ho trovato un po' di conforto là e qui c'è la strofa aggiuntiva adesso gli anni mi stanno passando addosso stanno scorrendo uniformemente sono più vecchio di una volta e più giovane di quello che sarò e questo non è insolito no non è strano dopo cambiamenti su cambiamenti siamo più o meno gli stessi dopo i cambiamenti siamo più o meno gli stessi così preparo i miei vestiti invernali e con il rammarico di non essere andato andare a casa dove gli inverni di New York non fanno male e mi esortano ad andare a casa strofa finale ed è e qua c'è una cosa che adesso beh non credo abbiano inventato loro ma cioè non credo che abbiano inventato Paul Simon questa cosa ma c'è questa similitudine tra diciamo arrivare in una città nuova ed essere preso a pugni da un pugile ok che poi fa molto fa molto New York pugile così nella mia immaginario quindi poeticamente è una figata nello spiazzo c'è un pugile e un lottatore come suo mestiere e porta con sé il ricordo di ogni guantone che l'ha mandato al tappeto o ferito fino a farlo piangere nella sua rabbia e nella sua vergogna lascio lascio ma il lottatore rimane sempre niente il significato mi sembra abbastanza chiaro quindi quando si trasferisce in una nuova città lotta fino in fondo niente questa era la canzone di oggi che spero prima o poi mi uscirà dalla testa e poi quando ci sarà una nuova canzone parleremo anche di quella ciao